Riparte Roma Incontra, una nuova stagione ricca di protagonisti, fatti e storie con la qualità di sempre ma in una nuova location. Dal 9 marzo tutti lunedì alle 18.30 dallo spazio teatrale di Palazzo Santa Chiara e in mercoledì in seconda serata sulle principali emittenti regionali e sul 518 di Sky. Vi aspetto!